Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it L'epilessia è una malattia neurologica ad oggi fortunatamente controllabile e dalla quale si può guarire Eppure ancora si porta dietro gli strascichi dello stigma sociale che la caratterizzava nei secoli scorsi Chi ne soffre o le famiglie dei pazienti non solo vivono il disagio di dover affrontare le crisi improvvise Ma anche le conseguenze dell'ignoranza negli ambienti scolastici e lavorativi Col video di oggi quindi conosciamo l'epilessia, quali sono le cause e le cure e soprattutto come intervenire se ci troviamo ad assistere ad una crisi epilettica Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto L'epilessia è una malattia neurologica più diffusa di quanto si creda Si stima che in Italia interessi circa l'1% della popolazione Colpisce prevalentemente i bambini e gli anziani al di sopra dei 75 anni In realtà più che parlare di epilessia bisognerebbe parlare di epilessie perché ne esistono diversi tipi Tutte però accomunate dalla presenza di crisi epilettiche ripetute e non provocate Un singolo episodio di crisi epilettica invece non significa essere malati di epilessia Una crisi epilettica è scatenata da impulsi elettrici anomali che partono dalla corteccia cerebrale Cioè lo strato esterno del nostro cervello che proprio attraverso degli impulsi elettrici coordina diverse funzioni A seconda che la crisi interessi solo un punto o tutta la corteccia, si distinguono due tipi di crisi Focali e generalizzate In una crisi focale la scarica elettrica anomala parte da un punto preciso E a seconda della funzione coordinata da quella zona si potranno avere dei sintomi Che possono riguardare la vista, la parola o i movimenti Nelle crisi focali viene mantenuto lo stato di coscienza Anche se è possibile che una crisi inizi come focale per poi diventare generalizzata In una crisi generalizzata invece fin dall'inizio è interessata tutta la corteccia cerebrale Ma anche in questo caso i sintomi possono variare in funzione del tipo di epilessia Vediamo alcuni esempi Il tipo di crisi più grave è quella tonico-clonica In cui si ha un'improvvisa perdita di coscienza Il soggetto può emettere un urlo per poi cadere a terra irrigidito e con la bocca serrata Questa è la fase tonica Successivamente iniziano le scosse ritmiche tipiche della fase clonica Durante questa fase si può avere emissione di bava schiumosa e la perdita del controllo degli sfinteri Questo tipo di crisi spaventa molto chi vi assiste, ma in genere il paziente non ricorda nulla Dopo la crisi possono esserci senso di stordimento, crampi muscolari e sonno profondo In rari casi le crisi non si arrestano o si succedono ripetutamente In questo caso, definito male epilettico, esiste un pericolo reale per la vita del paziente Le crisi di assenza infantile invece sono delle brevi crisi in cui il bambino all'improvviso Arresta tutto ciò che stava facendo e il suo sguardo appare assente per pochissimo tempo Questo tipo di epilessia esordisce generalmente in età pediatrica e per fortuna va a risolversi spontaneamente Chiaramente però va trattata perché ripetute crisi di assenza possono influire molto negativamente sulla qualità di vita del bambino La caratteristica delle crisi epilettiche è proprio quella di essere improvvise La parola epilessia infatti deriva proprio da una parola greca che significa essere colti di sorpresa Tuttavia in alcuni casi è possibile che si manifestano dei sintomi che preannunciano la crisi, definiti aura epilettica Questi sintomi sono molto soggettivi, variano da paziente a paziente, possono essere ad esempio nausea o formicolii agli arti Sarà il paziente che impara a riconoscerli L'epilessia può avere diverse cause, quando queste non vengono individuate si parla di epilessia idiopatica Anche se con l'avanzare delle conoscenze scientifiche si stanno individuando delle cause genetiche In altri casi invece la causa è da attribuire a malformazioni al cervello, oppure ad eventi conseguenti la gravidanza o il parto Ad eventi conseguenti incidenti o ictus, oppure ad esiti di malattie infettive Nei soggetti predisposti è possibile che la comparsa di una crisi sia facilitata da cause scatenanti Come l'alterazione del ritmo sonno-veglia con privazione del sonno, l'assunzione di alcol e droghe, forti stress fisici o emotivi Ma anche l'esposizione a stimoli luminosi forti e intermittenti In quest'ultimo caso si parla di fotosensibilità ed è un fenomeno molto più diffuso di quanto si pensi Nel dicembre del 1997, ad esempio, un episodio della serie animata Pokémon trasmesso solo in Giappone Provocò il ricovero di oltre 700 bambini a causa di crisi epilettiche scatenate dai lampi di luce emessi dal protagonista L'episodio è stato eliminato e mai più trasmesso e da allora sono state adottate delle misure per evitare che tutto ciò possa ripetersi La terapia principale dell'epilessia è costituita dai farmaci anticrisi che permettono di trattare il 70% dei pazienti con buoni risultati Sono farmaci che vanno scelti attentamente dal neurologo e vanno assunti con estrema precisione e regolarità Nei bambini diventa particolarmente importante la stretta collaborazione tra scuola e famiglia Se le crisi scompaiono, dopo due anni si può iniziare a pensare di sospendere la terapia, ovviamente sotto stretta sorveglianza del medico Nei pazienti farmacoresistenti che quindi non rispondono alle terapie farmacologiche Si può valutare l'opzione chirurgica di rimuovere la parte della corteccia dalla quale si originano le scariche anomale Ovviamente tale opzione è valutabile solo quando non si rischia di provocare gravi danni neurologici al paziente La chirurgia è anche l'opzione che viene valutata quando si individuano malformazioni o traumi che causano l'epilessia Quando la chirurgia non è possibile si può anche optare per tecniche di neurostimolazione Ad esempio la stimolazione del nervo vagale può essere impiegata per bloccare le scariche elettriche anomale che provocano le crisi Oppure con lo stesso scopo possono essere impiantati degli elettrodi direttamente nella corteccia Infine l'approccio dietologico con la dieta chetogenica può dare anch'esso buoni risultati nei pazienti che non rispondono alle terapie farmacologiche La dieta chetogenica è una tipologia di dieta in cui l'apporto calorico è a favore dei grassi e a discapito di proteine e carboidrati In questo modo il corpo è costretto ad utilizzare i corpi chetonici per ricavare energia Chiaramente è un tipo di dieta che non tutti possono affrontare e che deve essere attentamente supervisionata dal medico Veniamo ora alla parte più pratica del video Come comportarsi nel caso in cui ci si trovi a soccorrere una persona in preda ad una crisi epilettica La cosa più importante è mantenere la calma, non affollarsi intorno al malcapitato e seguire questi consigli Se puoi attutisci l'eventuale caduta e poni sotto la testa un cuscino o qualcosa di morbido a disposizione come un maglione o un giubbino Allontana tutti gli oggetti appuntiti o che potrebbero causare ferite in caso di urti come tavoli e sedie E slaccia gli indumenti stretti al collo Non cercare di fermare i movimenti e di aprire la bocca Non devi preoccuparti che ingoi la lingua e continui a respirare anche con la bocca serrata Cercare di mettere qualcosa in bocca per tenerla aperta è assolutamente sbagliato Meglio un morso alla lingua che rischiare di soffocare Osserva il modo in cui si manifesta la crisi e controlla quanto tempo dura per poi riferirlo ai medici Una volta terminata la crisi disponi il paziente in posizione di sicurezza sul fianco sinistro e dagli il tempo di recuperare Non lasciarlo solo finché non abbia recuperato completamente Chiama i soccorsi? Sì, è la prima volta che si manifesta una crisi La crisi è durata più di 5 minuti oppure il paziente non recupera completamente Abbiamo visto cos'è l'epilistia, quali sono le cause, come si cura e come intervenire in caso di crisi Chiaramente questo video è solo una rapida panoramica e non vuole essere esaustivo di un argomento tanto complesso Il nostro scopo invece è quello di far conoscere per abbattere gli stereotipi e aiutare questi pazienti a vivere con la massima serenità la loro situazione Se hai domande o vuoi lasciare la tua testimonianza scrivi un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di Semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te